Come ti chiami e di cosa ti occupi? Sono Davide Rossetto, titolare della City Italy in provincia di Treviso, mi occupo di sedute per arredamento. È la prima volta che partecipi a B2B Live? Sì, la prima volta. Cosa ti ha spinto a partecipare alle edizioni di quest'anno? La convinzione è che rispetto al passato bisogna evolversi e utilizzare strumenti di marketing che molte aziende oggi non utilizzano. Quindi bisogna saper comunicare anche il prodotto che realizzi. Come hai conosciuto il mondo di B2B? Io l'ho conosciuto tramite mio fratello che già ha a che fare con Ipogrifo, mi ha dato delle ottime referenze. Ho visto subito che la vostra realtà è nell'età che bada molto alle cose concrete. Molte volte ho sentito parlare di marketing, ma c'era molto fumo e poco arrosto. Mi è sembrata la vostra realtà invece molto vicina alla concretezza, ai problemi da risolvere. Che cosa ti sta piacendo maggiormente dell'evento di oggi? Che cosa stai ritenendo utile e interessante? Mi piace molto l'approccio schematico, quindi cercare di riassumere i concetti che comunque sono tanti. Ho apprezzato molto la testimonianza di Jack Sintini di ieri, che dimostra come anche nelle difficoltà, con la volontà e col team se ne può uscire. Consiglieresti di partecipare a B2B Live e se sì, perché? Allora, per me è un'esperienza che in questo momento direi molto positiva, quindi io lo consiglierai proprio per avere delle prospettive diverse. Non è più sufficiente produrre e magari produrre bene. Bisogna anche saper proporre, saper quali sono i canali, gli strumenti giusti per far arrivare il nostro messaggio a clienti esistenti o anche a potenziali clienti.